Il liceo scientifico Einstein di Teramo è il migliore in Abruzzo. Lo sostiene la fondazione Gianni Agnelli, che ha posizionato la scuola teramana al primo posto della graduatoria nazionale dell'endoscopio. La classifica si basa sulle performance universitarie dei diplomati, che valutano il numero di esami effettuati e la media dei voti conseguiti nel primo anno di Ateneo. Soddisfatta la preside Clara Moschella, orgogliosi professori e studenti, ma qual è il segreto di questo successo? Il nostro segreto è l'impegno, la cura, la premura educativa per ciascun ragazzo e soprattutto l'amore per il sapere che i docenti di questa scuola hanno dimostrato nel corso degli anni. Questi ragazzi cosa sanno più degli altri? Questi ragazzi non sanno più degli altri. Chi studia in questo liceo affina le capacità logiche e le capacità argomentative. Grazie ad un connubio forte tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche, perché qui si studia molto bene anche l'italiano, la filosofia e si lavora prevalentemente sul metodo di studio, quindi sulla capacità metacognitiva, sulla riflessione, sulla conoscenza. La classifica abruzzese che vede al primo posto l'Einstein di Teramo riapre la vecchia diatriba sul dubbio che ogni anno attanaglia gli studenti di terza media e le loro famiglie. È meglio il liceo scientifico o è meglio il liceo classico? Sicuramente entrambi. Il successo di una scuola si basa sul non mollare mai lo studente e portarlo a dare il meglio di sé. Io penso che il ragazzo debba seguire le sue vocazioni. Quello che è importante è un orientamento continuo che parte fin dalla scuola primaria. Il bambino deve essere abituato a riflettere su ciò che ha appreso. Io sono un'insegnante di greco e credo fermamente nel valore, nella validità di questa lingua per lo sviluppo del pensiero complesso. Non solo per un discorso relativo all'etimologia, per chi farà degli studi relativi alla medicina. Non è solo questo. La cultura greca è la cultura occidentale ed è importante. Come insegnante di greco mi sono ritrovata in un liceo scientifico e ho imparato tanto. Ho imparato tanto dai docenti e ho capito che la matematica è un'abilità e una competenza trasversale che aiuta in ogni ambito.